Benvenuto, ora rilassati, sedi con la schiena diritta e chiudi gli occhi, respira tranquillamente con il naso e permetti al tuo corpo di rilassarsi. Lascia che la musica ti porti dolcemente in uno spazio interiore, sognante, uno spazio morbido, confortevole, lo spazio del tuo cuore e respira in quello spazio. Immagina ora un cielo stellato, il più antico, bello e luminoso che riesci a immaginare. La Via Lattea è chiaramente visibile sopra di te, una striscia di stelle dense, come un sentiero di semi luminosi che si staglia contro il blusculo del cielo. Intorno ad essa, centinaia e centinaia di stelle si dispongono in gruppi e costellazioni. Vi sono stelle più luminose, altre pulsanti, altre ancora con una lieve vibrazione azzurra, o rossastra, nell'insieme di stelle bianche, luminose e vivide, disposte nella volta del cielo. Guarda questo cielo stellato e percepisci l'immensità di mondi, civiltà, vite che lo popolano. Respira. E allo stesso tempo percepisci il senso di fratellanza che ti accomuna a questo cielo, l'unità fondamentale, semplice, gioiosa, che connette tutto il creato a te in questo momento. Immagina ora che alcune stelle di questo magnifico cielo brillino e pulsino più delle altre e assegna a ciascuna di esse una qualità dello spirito. Senti ciascuna qualità sgorgare dal tuo cuore mentre osservi le stelle. In modo naturale potrai assegnare loro verità, saggezza, integrità, fratellanza, gioia, accettazione, fluidità e tutte le qualità spirituali che naturalmente sgorgano dal tuo cuore. Fallo adesso, per qualche istante. Ora che le qualità dello spirito risiedono in queste stelle, Immagina che esse, come stelle cadenti, si muovano nel cielo fino a raggiungere lo spazio di fronte a te simili a scintille luminose ognuna a formare il pistillo luminescente di un soffione che tieni tra le due dita. Osserva queste stelle formare i pistilli del soffione ogni pistillo carico delle qualità spirituali che le stelle portano con sé. Ora il soffione è completo tra le tue dita, luminoso, lieve, traboccante di luce ed energia. Quando te lo dirò, prenderai un respiro profondo e soffierai via i pistilli del soffione perché ogni seme, ogni qualità, possa raggiungere i luoghi del pianeta che ne hanno maggiore bisogno. Sei pronto? Inspira ora profondamente e soffia. Guarda i pistilli del soffione, mentre volano via luminosi nel cielo. e osserva ciascun seme, mentre raggiunge esattamente quel luogo che necessita della sua qualità. Nulla più ti ha richiesto, se non essere consapevole che la luce è intelligente e sempre saprà dove operare per riportare equilibrio e armonia nel mondo. Medita ora per qualche minuto, mantenendo la gioia e la consapevolezza che hai generato, mentre osservi il pianeta dallo spazio e noti come una miriade di punti luminosi si accendono in tutta la sua superficie, dove i semi del soffione hanno portato le loro qualità. in tutta la sua superficie, dove i semi del soffione hanno portato le loro qualità. Bene, tra poco ti alzerai e continuerai la tua vita quotidiana. Se farai attenzione, potrai notare i semi di ciò che hai appena seminato. Potrà essere un sorriso, un gesto gentile, un oggetto che porta bellezza sul tuo cammino, una buona notizia. Ricorda, ogni volta che sceglierai di notare quei segni, di dare attenzione al positivo piuttosto che al negativo, sarà come se annaffiassi quei semi che hai appena seminato. Scegli la polarità che vuoi sperimentare e dedica ad essa tutta la tua attenzione. questo è il segreto più semplice e potente di tutti per trasformare la tua esperienza di vita e il mondo in cui ti trovi. Se hai gioito durante questa meditazione, ti invito a ripeterla più e più volte e a sperimentarla in gruppo, insieme ai tuoi fratelli e sorelle, per ottenere una gioia ancora più intensa. Bene. Ora fai qualche respiro profondo e apri gli occhi. grazie per la tua presenza. Grazie per la tua presenza. Grazie per la tua presenza. Grazie a tutti